Uomini e donne, Ernesto Russo, da chef ad attore. Ecco in che fiction lo vedremo. Ernesto Russo ha partecipato a Uomini e donne Trono Over, ma il cavaliere non si è mai esposto più di tanto. O meglio, all'inizio si è trovato a frequentare Giuliana Brasiello, la quale già usciva con sosse a ruta e tra i due uomini è nata una sorta di competizione. Ernesto è uno chef napoletano, ma vive a San Felice Circeo, un paesino del Lazio dove ha due ristoranti. Grazie alla sua abilità culinaria, Russo ha partecipato al TG5, alla rubrica del gusto. Ma non solo, perché lo chef ha avuto l'onore di organizzare la cena per i vertici di Mediaset, per festeggiare i 20 anni del TG. Inoltre Ernesto ha partecipato anche, sempre in qualità di chef, al programma Rai condotto da Osvaldo Bevilacqua, Sereno Variabile. Cosa sappiamo di più dell'ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne? Russo è separato ed ha due bellissimi figli, Gwendalina e Yuri. Inoltre lo chef è anche impegnato nel sociale, si è offerto come volontario nel pranzo di Natale alla comunità Sant'Egidio. Il giovane chef è giunto nel salotto dell'amore di Maria De Filippi per cercare l'anima gemella e poco dopo tempo i suoi occhi hanno incrociato quelli della bellissima Laura Cola. I due hanno lasciato Uomini e Donne e la loro storia d'amore procede, come per tutte le coppie, tra alti e bassi. L'aspetto misterioso e burbero, però, non è passato inosservato agli occhi di alcuni registi. Andando a sbirciare nel suo profilo social, abbiamo potuto constatare che lo chef ha postato un video tratto da uno spezzone di una fiction, della quale è protagonista. Ebbene, lo chef è stato ingaggiato come attore per alcune fiction poliziesche. Una di queste è la serie televisiva Ultimo, con Raoul Boba. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Ultimo, con Raoul Boba.